Hai problemi con i cheater su Call of Duty e Warzone? In questo caso ho una buona notizia per te. Pare infatti che Activision stia facendo le grandi pulizie, grazie al suo nuovo sistema anti-cheat chiamato Ricochet. Solo a febbraio sono stati bannati 6.000 account, mentre durante il primo weekend di aprile ne sono partiti altri 27.000. La compagnia è inarrestabile e ha già annunciato che altre massicce ondate di ban arriveranno presto. Questa notizia è molto positiva, se non sei un cheater è ovvio, ma il problema è che alcuni software, tra cui anche diverse mod grafiche, vengono rilevati dal sistema anti-cheat e possono portare al ban permanente dell'account. Molti utenti si sono lamentati con Activision dopo aver visto il loro profilo ingiustamente bannato, ma non hanno ricevuto alcun riscontro. Quindi mi raccomando, non cheatate, non usate mod e se possibile non giocate proprio a code.